silenzio due amici non si vedevano da tanto tempo dice ciao come va dove sei stato e sono stato all'università e che cosa ti sei laureato in logica logica e che cos'è la logica e ti faccio un esempio a te ti piace l'acquario si si se ti piace l'acquario ti piacciono i pesci se ti piacciono i pesci ti piace il mare se ti piace il mare ti piace la spiaggia chi cammina sulla belle spiagge le belle donne e quindi con la logica ho capito che te dall'acquario ti piacciono le donne ma tu è incredibile non sapevo di questa allora se ne va qua si incontra un amico fa ehi sai lo sai che ho incontrato l'amico nostro dice dove era sta era all'università si è laureato e che cos'è laureato in logica in logica e che cos'è la logica quello tutto orgoglioso perché poteva spiegare dire mo ti faccio un esempio a te ti piace l'acquario disse no e si ricchiama